Il celebre cantante Peppino Di Capri è stato ospite di un locale in Sicilia a Milazzo dove si è esibito in concerto. Le immagini e l'intervista di Gabriele Bruccoleri. La storia della musica ha partecipato alla storia della musica e quindi mi fa piacere essere qui stasera a Milazzo per questa serata particolare, c'è stata una bella atmosfera che si è creata questa sera come sempre, devo dire. E' una carriera che dura da un bel po' perché evidentemente la gente ama ancora un certo tipo di musica, ama amarsi e quindi mi dicono che pesce e spada è buonissimo. Un successo intraccontabile lo deciderà il pubblico il giorno che comincia a capire che si allenta la molla sarò il primo io a smettere oppure canterò per me. Approfitto di questa occasione per salutare tutti quelli che sono andati in ascolto in questo istante e mi piacerebbe poter sapere, prevedere già fin d'ora che posso prima o poi riabbracciare e abbracciare tutti quanti. Grazie, da Peppino Di Capri. Ciao 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 Noi un amore proibito Ormai resta solo